Allora, siamo in silenzio, siamo qui con Mattia Migliaccio, migliore in campo della partita atletico migliatato contro Kids, Migliaccio autore di tre gol. Allora, Migliaccio, è la terza volta che sei migliore in campo. Questo è importante, questa è squadra. Questa è squadra che sta scritto. Ah, una maglietta. E senti, gli obiettivi di classifica. Noi come Draga andiamo per la salvezza, poi se c'è qualcosa in più, meglio ancora. Quella parata è la del pastore. Continua a dire, tutta la squadra, bel gioco di squadra, anche se potevamo giocare in montagna. Trentino di merda. Ma non lo fa parla. Trentino voglio chiedere scusa per tutto quello detto. Ma che stiamo piano, non so, io dico cose a caso, però io vado bene. Basta, concludiamo così. Concludiamo così e le dico questa vittoria alla mia ragazza Chiara Bilone. A fuoco!